Buongiorno a tutti, sono Eugenio Marelli e all'interno di Scandi Padova mi occupo delle vendite degli autobus da turismo e di linea e abbiamo come base Scandi Vicenza che è a San Drigo. Abbiamo creato qui a Vicenza il nostro centro del bus dove c'è tutto un team di persone affiatate per assistervi sia nella parte di vendita che quella di post vendita. In questi giorni in modo particolare con il nuovo Scania Touring che vedete alle mie spalle stiamo facendo delle prove su strada, i famosi test drive, con i clienti. Vi aspetto tutti per le prove su strada e qui da noi in concessionaria. Sono Matteo, mi occupo l'assistenza degli autobus, qui a San Drigo facciamo dei servizi pre-consegna, assistenza, climatizzazione, elettronica e meccanica basata sugli autobus. Attualmente sto facendo un controllo periodico a questo autobus di linea che consiste nella sostituzione dei filtri e dei controlli di livelli. È da qualche anno che seguo l'assistenza degli autobus, per me è stata una grande sfida e ogni giorno la vivo come una grande vittoria. Noi di Scandi Padova vogliamo mettere in campo tutta la professionalità che ci ha sempre contraddistinto in decenni di esperienza nel settore dei veicoli industriali. Ed è con questa nuova idea, questo nuovo progetto, che vogliamo portare tutta la nostra professionalità anche in questo nuovo settore. Ed ora non resta che goderci il viaggio.